Sostegno e tutela delle aziende balneari lucane, che rischiano di essere penalizzate dall'applicazione della direttiva che obbliga gli Stati europei ad assegnare le concessioni demaniali attraverso le gare. La chiedono i rappresentanti dell'Associazione Balneari Maratea e del coordinamento degli operatori turistici della Costa Ionica, che sono stati ascoltati nella terza commissione presieduta da Vincenzo Robortella. Le aziende balneari chiedono norme che tengano conto del legittimo affidamento dei concessionari in attività che hanno investito nella propria azienda quando le norme erano diverse, prevedendo almeno un lungo periodo transitorio ed un serio indennizzo a favore dei concessionari uscenti come ristoro degli investimenti effettuati. Chiedono inoltre di riprendere l'iter del piano regionale delle aree costiere tenendo conto degli interventi necessari per contrastare il fenomeno dell'erosione delle coste e di definire un iter veloce per la definizione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime. Il presidente Robortella chiederà al governo regionale di attivare un tavolo di confronto per discutere con gli operatori le scelte da adottare.